ciao a tutti da luca andrea michael ok siamo qua dove c'eravamo fermati andrea io e te poche ore fa qua nel nido di cucurò dove è pieno di draghi noi dobbiamo andare praticamente a uccidere i nuovi draghi non ci andiamo a incasinare perché di andare in su e la sai che mi sono già perso ieri sera abbiamo abbiamo ammazzato il drago un culo guarda io stavo dormendo quindi tu non hai visto ma poi te lo faremo vedere allora andiamo avanti perché qua stasera c'è da spaccare veramente dei culi e come dice giorgino e cazzo questa è no qui si va giù ragazzi devo mettere devo mettere sì però non ho ancora fatto una nerspola non so mica perché però prima sapete qual è questa spada qui qui si corre il rischio di cadere giù stavo per cadere giù li ve lo dico poi queste gambe scoperte allora io è la prima volta che arrivo su questo mondo avanti lo votiamo 872 voti ha preso qui quando uno va in un livello bisognerebbe vederlo per la prima volta qui ho letto nei forum che bisogna cazzo questa la devo prendere ma porca mignotta questo che cacchio vuole cazzo vuole ecco siamo già tornati non morti quindi è servita poco prendere le figie abbiamo perso anche questa che era importante prenderla quindi qua abbiamo già capito che c'è già un drago che ci brucia il culo porca mignotta come si fa a giocare così allora vediamo no non è mica il bosco sto qua mettete a sedere tu allora allora andiamo a vedere allora però io qua non è che sono tranquillo tanto con questa spada qui io vorrei mettere anche una spada un po più tranquilla perché questa qui se no cadiamo giù nel baratro oddio allora ma già ma già praticamente ti ha cerchiato si ma cerchiato non usate la freccia dell'anima argentata perfetto non serve un chiatto no no perché il chiatto perché adesso andiamo prima a vedere qui cosa diceva il tipo la allora queste uova qui se noi le rompiamo secondo me arriva i draghi dovremmo lasciargli qualcosa qui e loro i draghi ci portano qualcosa questo è quello che dicono andiamo a vedere non c'è niente torniamo dove ci hanno masticato però qui vedi andiamo a leggere cosa ha scritto bugiardo più avanti quindi ritirati ah di qua c'è il bugiardo torniamo indietro e dobbiamo andare a riprendere le anime questo credo che sia sono tutti i boss boss opzionali però se vuoi avere tutte le anime dei giganti bisogna andare di qua vedete che c'è un altro che gioca online oh qui è un altro punto eh eh c'è il nostro amico cazzo stavolta porca mignotta ma che cacchio non dire che adesso scappa attraverso i muri ma qui non può scappare gio temerario eh qui dove è andato? si è andato dentro al muro ma ragazzi potete ridere ma qui ci sono i draghi stai pure sereno che qui potete ridere anche un anno Pietro Scurano bene devi prendere e scappare si ma non ho ancora visto chi è che mi attacca qua ve l'avevo detto che è un po' non ho ancora capito ah è come quello che abbiamo ucciso ma non è un boss questo non è un boss e cosa? ah è ancora più difficile no sono tutti draghi questi sono tutti draghi adesso vediamo un po' ecco ci siamo tornati da giochi online da gente stavolta il culo te lo facciamo noi dove sei? merdata porca troia che cazzo è sta visuale merdosa dov'è? dovresti prima andare a prendere le anime ah è là è là adesso fa un po' spara il fuoco direi che spara già il fuoco ma io qua io qua facciamo che prima usiamo queste tanto le ho prese apposta la visuale è un po' una merda come sempre questo gioco è un po' lentone qui proviamo a dargli dei colpi nelle caviglie ah è come ieri però oggi non è ieri questo qui è ancora più cattivo mi dà vedere adesso tenterà di schiacciarmi se è brutto guarda se è brutto in 3d ma poi troppo non è cioè no che cazzo sono finito ma porca ma dove siamo finiti ah beh niente abbiamo fatto il giro della casa arriviamo sai amico guarda che spara fuoco noi non ci siamo questo continua a sparare cioè siamo finiti giù è troppo brutto in 3d ma vedi tu questo è il secondo non so quanti c'è dai dai no 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 ma che mi sono incastrato io sono oh non mi posso più muoverne avanti né indietro perfetto guarda bel bug del gioco ero rimasto petrificato da me stesso cioè non mi potevo né muoverne avanti né indietro vabbè non so il motivo ma adesso ti do delle pacche nelle gengive ma il problema è che mi schiaccia no che troia il problema è che non vedo neanche tu lo capisci come ho messo con la barriera qui ma apriendo i polpi si ma dov'è lui qual è l'energia apriendo i polpi dai che sta morendo dai ma dai curati brutto gay caro abbiamo già arrivato in buon punto vaffanculo ci rivediamo da qui da volte le spacchiamo le gengive bagaglio ciao ragazzi siamo qui di nuovo per spaccare le gengive a questo amico il problema è che io sono sicuro che se non riesco a curarmi ripeti ma è bellissimo ripeti prendi i comandi subito che c'è anche una spada lunga e si muove in tutto meglio mi spazio 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 stavolta porca miseria sei morto tu qui raccogliamo ragazzi perché c'è un bel po' di roba perfetto pietra fulminante qui c'è un fracco di roba queste sono importantissime guardate e questa che cacchia è sta roba è diarrea di dinosauri ne arriva un altro ho molto paura che fra un po' qua ne arrivano una palangheata mi hanno detto sì sì mi dà l'idea anche a me ma non c'è una madre non potrei ma ne arrivano ah qui siamo venuti noi giusto molto bene guarda che cosa c'è da recuperare niente qui si cade di nuovo giù negli inferi ci facciamo un bel bidet allora uno vediamo qui che cavolo c'è qua su ci vediamo al prossimo video e partiremo sicuramente da qua ciao a tutti ciao 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 da Luca da Michael e Andrea ciao